Siamo agli esteri, Sanchez è travolto la Spagna verso il voto, gli indipendentisti con la destra, governo sconfitto sulla finanziaria. Domani decisione sulle elezioni, ieri il premier socialista Pedro Sanchez ha subito una dura sconfitta in Parlamento dove è stata bocciata la legge finanziaria. Venerdì dopo il Consiglio dei Ministri il premier dovrebbe annunciare la data delle nuove elezioni. Dal 2 giugno del 2018 ricordiamo Sanchez è a capo di un governo di minoranza appoggiato dagli indipendentisti catalani che ora gli hanno tolto la fiducia dopo l'inizio del processo ai 12 leader catalani per il referendum considerato illegale e la proclamazione dell'indipendenza. Lo scorso 1 giugno il Parlamento spagnolo aveva approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora premier Mariano Rajoy dopo la sentenza del cosiddetto caso Gürtel, uno scandalo di corruzione e fondi neri che ha coinvolto alcuni esponenti di primo piano del Partito Popolare.